Ivan Gianedic è confermato all'SNC per i prossimi tre anni, come va questa decisione nonostante di hanno contattato anche squadre di Serie 1 come Soli e Sauna? Sì, avevo offerte ma la prima cosa che ho pensato è che volevo riposarmi questo estate, così volevo anche firmare il contratto più presto possibile e anche ho iniziato una cosa qua con le squadre di Under 13 e così questo era un impegno di più e una decisione di rimanere qua e così ho deciso, ho firmato un contratto da tre anni mi piace che ancora lo seguo quelli giovani che sono all'inizio e penso a portare al massimo e comunque anche con prima squadra a fare sempre i risultati più buoni possibili Quindi un contratto che ti farà fare anche l'allenatore con il settore giovanile che hai fatto in questa stagione, come è andata? È andata diciamo quasi bene perché il mio primo obiettivo è vedere chi sono quelli ragazzi, cosa sono capaci e prima cosa è che volevo creare un gruppo e alla fine abbiamo fatto, abbiamo portato sette ragazzini in rappresentativa, siamo entrati in Final 8 così con risultati e con loro progressi per ora sono contento, ho fatto il mio obiettivo e così ho bella base di andare avanti Grazie Grazie.